Gravissima una ciclista investita poco dopo le 18 a Baselga di Pinè sulla centrale via Battisti la donna che era senza documenti e al momento non è stata identificata stava scendendo in direzione Trento quando una vettura che stava svoltando a sinistra l'ha centrata caduta a terra la ciclista ha riportato una grave lesione alla testa sul posto con l'elicottero è arrivato il medico rianimatore che ha praticato le prime cure poi la donna è stata trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è stata accolta con prognosi riservata.